musica Siamo qui l'altra volta Siamo qui un'altra volta, due buongiorno Cosa sia? No, no Ma perché tu hai gli occhiali? Perché io mi sono fatto una cava C'è il virus Vai! Il spacciatore in centro Se mi volete chiamare mia madre Se l'avevo di telefonare Attrezzo da Brigidino Il Brigidino diciamo madre La madre Ma non gli è fissato, ha visto? Gli è fissato, Ciletano gli è fissato Gli ha le fissazioni Allora io voglio lanciare un appello Andiamo a stappare con questo stappino molto sicuro musica